È tutto pronto all'Istituto Seghetti delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù per la giornata di domani con i poveri e senza fissa dimora della città. I tavoli sono apparecchiati per la tradizione del pranzo di Natale, un'usanza che dura da 70 anni. Sarà presente anche il Vescovo di Verona. Domani succede che qui si riempirà di persone, ci sarà molta allegria e ci sarà un gran pranzo di Natale per tutte quelle persone che sono in giro per la città e normalmente non hanno un posto o una famiglia dove andare durante le feste. Da dove arrivano queste persone? Arrivano da tante parti. Sono normalmente quelle persone che fanno riferimento a quei centri tipo Don Calabria, tipo l'asilo Camploi, tipo Filippini, San Bernardino. Insomma, là dove ci sono dei posti di accoglienza per loro e a Natale si radunano qui. Il menù si presenta vario e appetitoso grazie alla provvidenza. Le famiglie e tante persone si sono date da fare perché al pranzo di Natale e di domani non manchi niente. La casa sarà aperta dalle ore 9.30 e quindi avranno tè, caffè, biscotti. Poi ci sarà un aperitivo rigorosamente analcolico e poi ci sarà un primo con un tris, con un buon risotto, con dei buoni tortelli, la pasta. Ci sarà un secondo con dell'arrosto, di tacchino e dei contorni, la frutta, il caffè e anche il pan d'oro. Chi ci sarà a servire in tavola? Ci saremo noi suore, ci saranno gli alunni più grandi, quelli della scuola superiore, delle famiglie, degli ex alunni e degli amici che nel tempo ci sono rimasti affezionati. E sono rimasti affezionati a questa tradizione del pranzo di Natale al Seghetti che dura da una settantina d'anni. I ragazzi della scuola con le loro famiglie hanno raccolto viveri da donare ai poveri e alle mense della città per un Natale che sia veramente coerente con il significato cristiano di questa festa. Per gli ospiti che vorranno ci sarà anche la messa. Ecco, perché è bello questo momento domani insieme? Ma credo che, ecco, la messa per noi rappresenta un po' il momento centrale di tutta la giornata. In fondo accogliere loro è riaccogliere Gesù che viene e si fa prossimo e si fa vicino anche nella povertà. Di fatto noi il Natale magari, ecco, con gli anni l'abbiamo trasformato in uno sfolgorio di luci e di regali. Dobbiamo ricordarci che Natale è principalmente la festa di colui che viene e si fa vicino alla nostra fragilità facendosi lui stesso povero e fragile.